Buongiorno professoressa Venuti, è in partenza la nuova edizione del master sull'autismo dell'Università di Trento e volevo chiederle quali sono state le evoluzioni che ha avuto in questi anni? Il master che abbiamo attivato nell'Università di Trento in realtà ha una sua prima edizione nel 2010 all'interno di un ciclo di master per formare degli educatori sul territorio, poi ci siamo staccati da quel ciclo e dal 2012, quindi questa sarebbe la quinta edizione del master specifico sull'autismo dove abbiamo cercato di focalizzarci molto sulla formazione di questa figura di educatore che deve sapere intervenire in tutti gli ambiti dei disturbi dello spettro autistico e ci tengo molto a sottolineare il fatto che ci siamo allineati proprio nel discorso del disturbo dello spettro autistico e non della singola patologia autistica per dire che formiamo delle persone che sanno lavorare con ragazzi con alto funzionamento, con ragazzi con un funzionamento più difficile in qualche modo, che sanno lavorare nelle scuole, che sanno lavorare nei centri socioeducativi, che sanno lavorare nella famiglia, che sanno lavorare come animatori nei centri sociali, nei centri di vita e dove noi speriamo di incontrare sempre di più i ragazzi con disturbo dello spettro autistico. In questi anni, diciamo, si è evoluta la conoscenza dell'autismo e si sono evolute le concezioni che noi passiamo nel master e la formazione che facciamo agli operatori. Da un primo master in cui abbiamo lavorato molto di più su educatori che facevano il loro lavoro nei centri socioeducativi, siamo sempre più spostati a educatori che lavorano sul territorio e educatori che lavorano anche nelle famiglie. Bene, e quindi che ricaduta ha avuto in termini di occupazione nelle varie edizioni del master? Beh, questa è forse la cosa che ci rende più fieri, il fatto che questo master ha avuto una grandissima ricaduta dal punto di vista dell'occupazione dei masteristi. I dati degli anni sono sempre estremamente interessanti perché noi abbiamo generalmente la partecipazione di una metà degli iscritti che sono già occupati e un'altra metà invece che sono disoccupati. le indagini fatte da Alma Laurea hanno sempre dimostrato che la maggior parte delle persone che erano già occupate hanno avuto un avanzamento e un miglioramento della loro carriera e la quasi totalità delle persone che erano disoccupate entro la fine del master o all'inizio dell'anno successivo al master hanno trovato occupazione. Quindi è un master che praticamente garantisce un incremento lavorativo molto alto e devo dire che questa è la cosa che ci rende più fieri. D'altra parte ritengo che la formazione che viene data in questo master da un punto di vista teorico usufruisce della presenza dei maggiori esperti a livello nazionale e autismo ma alcune volte anche a livello internazionale perché abbiamo avuto la partecipazione di per esempio Giacomo Vivanti, Costanza Colombo, Amizir, cioè comunque di persone che sono terapeuti a livello internazionale e che sono venuti a portare la loro conoscenza al master. A livello nazionale da Simone Cuba a Giovanni Valeri a Maria Luisa Scattoni a Keller, Arduino, Renato Cerbo, Leonardo Zoccante ma solo per dire alcuni nomi perché poi ci sono tutto il Giovanna Gisson e Andrea Bonifacio cioè ha visto la partecipazione dei nomi fondamentali delle persone che stanno facendo in Italia la storia dell'autismo in questi ultimi anni e quindi la formazione teorica che offriamo è molto molto elevata ma anche molto varia nel senso che non abbiamo un approccio unico ma piuttosto cerchiamo di accogliere approcci diversi per dare la possibilità a ogni educatore di farsi una formazione quanto più ampia possibile. Dal punto di vista del tirocinio pratico e dell'esperienza laboratoriale ugualmente stiamo offrendo delle competenze molto interessanti perché oltre ai lavori nelle cooperative molti dei partecipanti fanno una settimana intensiva nel progetto terapia in vacanza che è un progetto del laboratorio di osservazione, diagnosi e formazione che ora viene portato avanti assieme alla cooperativa Albero Blu che è un progetto abbastanza unico in Italia nel senso che si hanno bambini, ragazzi con una certa omogeneità di livello che passano una o due settimane insieme in terapia in luoghi di montagna mentre i genitori hanno delle loro momenti di formazione ma anche dei momenti liberi di vacanza. Questa terapia intensiva ci ha permesso di avere dei grossi risultati con i ragazzini e con gli utenti ma anche di seguire la formazione in diretta dei nostri masteristi perché lavorano dentro e sono seguiti dai tutor e dallo staff direttamente per 5 giorni, poi ci stanno 2 giorni di teoria e poi altri 5 giorni di formazione quindi è una formazione interessante che permette di acquisire esperienze e quindi poi di poter essere pronti ad intervenire nel mercato del lavoro. Bene, quindi la prossima edizione partirà in autunno di quest'anno e ci saranno delle novità, ci sono nuovi progetti? Allora la prossima edizione che dovrebbe partire a ottobre di quest'anno, le iscrizioni si chiudono alla fine di settembre poi ci saranno le selezioni e poi il master partirà a fine ottobre dovrebbe essere una edizione innovativa innovativa per due motivi uno perché siamo in epoca di covid e quindi abbiamo dovuto inserire anche in questo master degli elementi di formazione teorica a distanza che non vedo come una cosa negativa ma vedo anzi come una cosa positiva perché forse può permettere a persone di altre parti d'Italia di partecipare noi abbiamo sempre avuto in questo master la partecipazione di persone che vengono da fuori provincia da fuori regione però abbiamo anche visto che per esempio negli anni scorsi si erano iscritte persone che volevano venire dalla Sicilia e che poi non ce l'hanno fatta insomma non hanno passato la selezione ma che non ce l'hanno fatta dopo che si sono rese conto della fatica di fare il viaggio fino a Trento ogni 15 giorni quest'anno noi invece garantiremo che la parte teorica potrà essere fatta a distanza dove non è detto che noi faremo tutta la parte teorica a distanza probabilmente faremo anche dei pezzi di teoria in presenza però chi è molto lontano può soffrire ancora di un collegamento a distanza e quindi questo lo vediamo come un successo chiaramente il master poi implicherà la parte laboratoriale invece in presenza l'altra novità di quest'anno sono i laboratori allora abbiamo intenzione di organizzare molti più laboratori pratici con una modalità un po' nuova allora il master fino a ora faceva tutto un pezzo di formazione teorica poi si offriva alle persone la possibilità di fare il tirocinio con le supervisioni del tirocinio ora noi vorremmo far partire questi laboratori quasi subito quindi io parlo già nel mese di novembre-dicembre almeno per le persone che possono arrivare da noi approfittando della collaborazione con le cooperative in particolare con Albero Blu e con la cooperativa Il Barba che è una cooperativa di inserimento labu cioè una cooperativa che gestisce un ristorante nella zona di Roveretto con cui vorremmo in questi spazi di queste cooperative vorremmo organizzare dei laboratori che vedranno la partecipazione di utenti nei fine settimana in particolare e con un focus molto specifico quindi un laboratorio teatrale un laboratorio cognitivo sull'acquisizione dell'attenzione congiunta un laboratorio sul potenziamento della narrazione un laboratorio sul potenziamento della pianificazione della funzione esecutive laboratori che devono durare dieci incontri o dieci ore, sette ore a seconda del laboratorio quindi molto focalizzati e questo rientra in una linea di lavoro che noi stiamo sperimentando nel laboratorio nell'ODF Lab in università e che vorremmo portare anche ai tirocinanti in questo modo il tirocinante può da subito fare un fine settimana di esperienza di laboratorio su questa esperienza si lavora di supervisione si lavora di pensiero il tirocinante può cogliere quelli che sono i punti fondamentali di questo laboratorio e poi pensiamo un secondo momento in cui sia lui a tenere il laboratorio con il tutore esperto che gli fa da supporto nel laboratorio ma che poi può riflettere con lui su quello che ha fatto, sulle esperienze e cose quindi quello che è il nostro obiettivo di acquisire competenza di acquisire professionalità da spendersi subito lo vogliamo gestire in una forma di tirocinio che oltre a quella classica di seguire dei ragazzi di fare l'esperienza, le terapie in vacanza e cose del genere ma si è anche messo proprio nella capacità di sapere organizzare dei laboratori sulle proprie competenze professionali che lui ha che vengono poi arricchite con la supervisione la riflessione in gruppo e l'esperienza diretta guidata questa sarà una delle grosse novità di questo cioè queste sono le due grosse novità insomma di questo nuovo master noi pensiamo che questo serve appunto ad arricchire la rosa dei partecipanti abbiamo visto che avere partecipanti da altre parti d'Italia serve anche moltissimo allo scambio di esperienze io penso che una cosa molto bella è che noi abbiamo costruito in questi anni delle reti di rapporti per esempio con i nostri partecipanti del Centro Italia delle Marche di Fermo ma anche quelli di Cascina Rossago e di Piacenza cioè abbiamo costruito delle reti di relazioni che permangono che ci hanno permesso di organizzare anche poi dei gruppi di supervisione nel tempo che vorremmo potenziare ancora quest'anno e che ci ha permesso anche di creare tutto uno scambio di esperienze e di lavoro congiunto che arricchisce noi come mi ha arricchito anche gli educatori che hanno partecipato i professionisti che hanno partecipato al master bene, mi sembrano informazioni molto interessanti soprattutto utili per chi fosse interessato a iscriversi alla nuova edizione del master ringrazio e ci vediamo a settembre grazie a voi sì, ci vediamo a settembre con la selezione poi ci vedremo nelle prime lezioni a cui io parteciperò e comunque credo che una cosa estremamente positiva di questo master è proprio la rete collaborativa che si crea nei dieci mesi quindici mesi di accompagnamento del master e comunque del gruppo che man mano costruiamo assieme indipendentemente dal ruolo che ognuno di noi assume nel corso del master bene, grazie e ci vedremo a ottobre grazie, arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.